Buonasera e benvenuti nel nostro canale. Prima di parlare di anticipazioni, vi ricordo che stiamo facendo una petizione che presenteremo a Mediaset per chiedere di ridurre la pubblicità in terra amara. È veramente scandaloso che in ogni puntata ci siano tantissimi spezzoni di pubblicità. Per partecipare anche tu alla petizione, metti un commento sotto al video scrivendo la parola BASTA. Più siamo e più possiamo ottenere qualcosa. Una volta raggiunti i 5.000 commenti e 5.000 like, presenteremo una richiesta ufficiale a Mediaset per ridurre la pubblicità minacciandoli di non guardare più i loro canali. La trasmissione terra amara continua su canale 5 presentando nuove puntate inedite. Secondo le ultime anticipazioni, Demir rivela a Sevda di essere in una relazione con Umit, chiedendole di mantenere il segreto con Zuleya. Yaman, un uomo di grande integrità e dedizione, si trova in una posizione precaria. Le onde sotterranee delle trame e degli intrighi cominciano a formarsi intorno a lui, ma è completamente inconsapevole del vortice che lo sta per inghiottire. La sua vita, che una volta era chiara e diretta, si sta trasformando in un intrigo pieno di ombre e dubbi. Mentre cerca di giustificare le sue azioni e di mantenere una fronte forte, dietro le quinte si stanno muovendo forze potenti e subdole. Il fulcro di questa tempesta imminente è un complotto magistralmente orchestrato per attaccarlo su due fronti cruciali della sua vita, il suo benessere economico e la sua vita sentimentale. La combinazione di questi due attacchi è progettata per essere devastante, con l'obiettivo di sradicare ogni pilastro che sostiene la sua esistenza. La domanda sorge spontanea. Come può una persona mantenere la sua forza interiore quando tutto ciò che ama e per cui ha lavorato è minacciato? Ma mentre Yaman è avvolto in queste preoccupazioni, una figura emerge dall'ombra con un ruolo cruciale nella vicenda. Sevda. Dotata di acume e perspicacia, è difficile dire se sarà una salvatrice o un'altra pedina in questo gioco complesso. Cosa farà Sevda di fronte alla tempesta che si avvicina? Userà la sua influenza e la sua intelligenza per aiutare Yaman o avrà i propri piani e agende da seguire? Un altro colpo di scena viene rivelato quando Fikret, un uomo noto per le sue ambizioni e la sua astuzia, forma un'insolita alleanza con Umit. Quest'ultima, pur essendo una donna in un mondo dominato dagli uomini, non è da sottovalutare. La sua determinazione, la sua abilità di manipolazione e la sua capacità di vedere le debolezze degli altri la rendono un avversario formidabile. I due, Fikret e Umit, vedono in Yaman una minaccia o forse un ostacolo per i loro piani e desideri, e così decidono di unire le loro forze per abbatterlo. Il loro piano è ben pensato e meticoloso, ma come in ogni grande storia, l'esito finale è incerto. Con così tante forze in gioco, la posta in gioco è alta. Yaman dovrà attingere a ogni risorsa di cui dispone, sia interna che esterna, per affrontare la tempesta che si avvicina. E mentre le linee tra amico e nemico diventano sempre più sfocate, tutti si chiedono quale sarà il destino finale dei protagonisti di questa intricata trama. Terra amara Anticipazioni Sevda svela il legame tra Demir e Umit. Umit arriva a Cukurova promettendo turbolenze. La brillante dottoressa, in alleanza con Fikret, è determinata a vendicarsi di Demir e per farlo diventerà la sua amante. Nelle prossime scene di Terra amara, la trama si intensifica quando Zuleya scompare misteriosamente mentre Demir è con Umit. Per fortuna, Althun sarà ritrovata in una foresta, ma i problemi sono lontani dall'essere risolti. Dopo l'incidente nella foresta, Sevda avvertirà che qualcosa non va e si recherà a casa di Umit, temendo di trovare Demir lì. La sua intuizione si rivelerà corretta e non esiterà a confrontare Yaman, chiedendogli spiegazioni sul suo coinvolto coinvolgimento con Umit, nonostante avesse promesso fedeltà a Zuleya. Come risponderà Yaman? In una discussione con Sevda, Demir ammetterà i suoi errori dicendo «So di aver sbagliato, non avrei mai pensato che Zuleya potesse avere sentimenti per me». Aggiornerà dicendo di aver cercato di terminare la relazione con Umit, ma che è stato più complicato del previsto. Il dilemma. Tra Demir, Sevda e Umit. Nel cuore della storia si delinea un crescente conflitto fra i personaggi centrali. Sevda, con la sua innata intuizione, avverte immediatamente Demir sulle pericolose intenzioni di Umit. Quest'ultima non è solo un personaggio marginale nella storia, è diventata una minaccia potente e concreta. La sua determinazione non conosce limiti, in particolare quando si tratta di distruggere l'idilliaco matrimonio tra Demir e Zuleya. Una relazione che, a gli occhi di molti, sembrava inespugnabile e basata su fondamenti solidi. Di fronte a queste rivelazioni, Demir si trova in una posizione delicata. Si rende conto dell'importanza di proteggere il suo amore con Zuleya, ma allo stesso tempo sa che la verità può avere conseguenze devastanti. Nel suo disperato tentativo di proteggere ciò che gli è più caro, si rivolge a Sevda, sperando che possa essere un alleato in questa situazione intricata. Con occhi imploranti, chiede a Sevda di mantenere il loro segreto, di non rivelare a nessuno il tumulto che sta attraversando. Sevda è un personaggio dotato di grande profondità emotiva e di un forte senso della giustizia. Nonostante sia naturalmente empatica e comprensiva delle sfide e dei dilemmi affrontati dagli altri, possiede anche una ferma convinzione morale. In situazioni complicate come quella tra Demir e Umit, non può semplicemente girare la testa e ignorare la realtà di ciò che sta succedendo. Il suo silenzio, sa bene, ha un valore, è una forma di complicità e Sevda non è disposta a concederlo leggermente, specialmente quando c'è in gioco la verità. Per Sevda, la verità non è solo un concetto astratto, è un pilastro fondamentale della sua etica personale. Sente profondamente che in qualsiasi situazione la verità dovrebbe essere rivelata perché ogni azione, ogni decisione presa, porta con sé delle ripercussioni e queste non possono essere semplicemente spazzate via sotto il tappeto. Tuttavia, Sevda non è insensibile al tumulto emotivo di Demir. Riconosce il conflitto interiore che lo tormenta, la battaglia tra il suo amore per Zuleya e la sua complicata relazione con Umit. Nonostante questa comprensione, non può e non vuole essere un mero spettatore. Desidera fare ciò che è giusto e per lei ciò significa assicurarsi che le azioni siano allineate con i valori. Pertanto, mentre potrebbe essere tentata di aiutare Demir, per il bene superiore che vede nella situazione, decide di porre una chiara e netta condizione. Sa che, mettendo sul tavolo questa richiesta, sta chiedendo molto a Demir rompere ogni legame con Umit. Non lo fa per essere punitiva, ma piuttosto per garantire che le scelte future siano prese con integrità e onestà, valori che per Sevda sono di fondamentale importanza e in un mondo in cui le emozioni sono spesso ingarbugliate e i confini sfocati, la sua fermezza fornisce una necessaria chiarezza. Umit, dal canto suo, è un turbinio di emozioni. La sua relazione con Demir l'ha portata attraverso un viaggio di autoscoperta in cui ha compreso la profondità dei suoi sentimenti. Ciò che iniziò come un profondo disprezzo per lui si è lentamente trasformato in un amore inaspettato e travolgente. La prospettiva di perdere Demir l'uomo che ha imparato ad amare contro ogni previsione la sta lacerando. Eppure le circostanze e le decisioni prese potrebbero costringerla a confrontarsi con questa dolorosa realtà. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara.